La scuola di potatura è una di queste iniziative, senz'altro interessante, perché propone un approccio alla potatura dei vigneti che tenga conto, maggiormente di quanto non succeda di consueto, della fisiologia della pianta e dell'invecchiamento della pianta. Questi metodi di potatura che cercano di essere meno invasivi nei confronti della pianta e di capire un po' di più la fisiologia della pianta sono un elemento molto importante di miglioramento delle produzioni e anche di aumento della longevità della pianta. Ulteriori ricerche sono in corso di programmazione, in collaborazione fra la Università di Udine e la Società Preparatori 2, ma anche le università di Milano e di Firenze che collaborano a questo progetto per capire ancora meglio come il funzionamento della pianta può essere favorito da queste tecniche.